Padagna Libera e ha già portato diversi risultati è un intervento soprattutto incentrato all'interno noi abbiamo delle sfide da raccogliere che sono incredibili e sfide che non possiamo perdere, questo vuol dire che al di là di avere un segretario federale che ha una capacità di comunicazione, di intervento di penetrazione sul territorio anche perché evidentemente lui e Bossi hanno questa capacità di riuscire a avere delle giornate a 48 ore perché sono sempre erano prima il segretario federale Umberto Bossi, poi Salvini sempre presenti dappertutto, anche sul Gazevo io spesso e volentieri a Milano me lo trovo che gira e viene a trovare i nostri militanti, ma il punto è l'organizzazione il punto è che non abbiamo tempo da perdere guardate non voglio perché Belotti ha portato via parecchio delle cose che io volevo dire il senso è che la Lega chi è in Lega, chi fa il militante la Lega Nord io ormai sono 25 anni è una questione di fede di cuore, di amore non possiamo star qui signori a perdere tempo perché io vorrei fare il consigliere comunale a Milano e allora gli ultimi sei mesi vengo ai Gazevo o vengo a farmi vedere il senso è che uno è leghista 24 ore al giorno è una scelta di vita è capitata è come una malattia ti sei ammalato e questa è una malattia cronica te la porti a vita e non ci sono non ci sono purtroppo per noi degli anticorpi o delle cure per fortuna e allora bisogna avere la capacità anche di capire che il sacrificio del movimento va al di là dell'ambizione personale questo è il senso perché si fa tutto in funzione del movimento il segretario federale ce n'è uno si chiama Matteo Salvini chi fa il militante della Lega Nord io quando ho fatto la tessera 25 anni fa nessuno mi ha obbligato con la pistola la tempia di fare il militante per cui una volta che uno fa quella scelta la fa in funzione dell'obiettivo del movimento non in funzione di qualche cosa d'altro e se non sei d'accordo e se decidi che domani mattina non ti piace più esci c'è tanto spazio in giro ne abbiamo visti tantissimi però chi ci crede poi rimane sempre e lo sforzo organizzativo come vi dicevo al quale ci stiamo preparando è importantissimo per cui tutti devono lavorare per l'obiettivo finale l'obiettivo finale è quello di acquisire voti di arrivare a scalzare Renzi di mandare via questo governo di rafforzare la nostra presenza nelle regioni dove abbiamo due presidenti Zaia e Roberto Maroni che sono i nostri presidenti e sono il nostro segnale sul territorio i nostri sindaci ma lavorare tutti non c'è tempo da perdere per guardare che tipo di scarpe porta Salvini la mattina e siccome non porta le scarpe come le mie allora io insomma non mi va bene non si discutono alcune cose non c'è da fare pensate un po' a Matteo Salvini che ha di fronte una campagna elettorale nazionale e adesso c'è la declinazione delle varie alleanze io preferirei andare da solo ve lo dico immediatamente siccome qualche anno l'ho fatto in alleanza non è facile però ci sono alcune parole d'ordine che devono essere seguite è inutile star qui a giocarci intorno perché se no uno viene qua a fare il delegato al congresso e poi va fuori legge il giornale dalla sua interpretazione del giornale l'altro giorno non so se avete visto è uscita questa comunicazione di Meloni Salvini e Berlusconi dove ci saranno dei candidati condivisi beh io vi dico che dal segretario provinciale di Milano mi hanno telefonato in diversi e iniziato a dire ma com'è ma allora sono liste condivise ma allora qual è nel bilancino quanti ne abbiamo noi e quanti ne hanno gli altri la funzione non è quella la funzione è quella di far prendere voti al movimento e di continuare la nostra azione di penetrazione perché siamo ancora quelli 25 anni fa se voi andate a vedere i manifesti di 25 anni fa sono le cose di cui stiamo discutendo oggi l'immigrazione le tasse il federalismo il federalismo la secessione il segnale forte di chi siamo noi e se noi siamo questi gli altri sono alleati è vero ma essendo alleati non hanno il sangue puro come il nostro per cui sono sempre alleati ricordiamoci di questa cosa la Lega come vi ho detto essere leghista è come diceva prima Pase lui ci ha aggiunto il coraggio è testa e cuore perché io li vedo i miei militanti di Milano che vanno tutti i sabati tutte le domeniche ai gazebo piove nebbia acqua caldo come penso in tutte le province sono sempre lì ci siamo sempre le bandiere ci sono sempre fateci fare il nostro lavoro facciamolo ognuno ha dei compiti prestabiliti nel movimento come diceva prima Belotti all'inizio se tu hai la fortuna di essere eletto o indicato non è che il giorno dopo sei eletto o indicato ti dimentichi di essere leghista perché sai sono istituzionale allora certe cose non posso dirle non posso farle ma soprattutto in un movimento come il nostro dove il volontariato è fondamentale dove con il taglio al finanziamento pubblico dobbiamo fare le cose come dobbiamo fare è fondamentale che chi non partecipa all'attività magari diretta del movimento ma ha degli incarichi faccia quello che deve fare dando tempo e magari ricordandosi che non è lì perché si chiama Davide Boni è lì perché è stato indicato dal movimento che è la Lega Nord punto e ognuno faccia il suo mestiere io sono segretario provinciale da un mese ho un compito è quello di organizzare come tutti i segretari provinciali il territorio e rendere creare uomini addestrare uomini fare entrare uomini essere presente ognuno ha il suo mestiere agli istituzionali ci sono i segretari provinciali è importante che gli istituzionali parlino con i segretari provinciali non possiamo io lo dico guardate in maniera molto tranquilla non voglio essere dirompente ognuno ha il suo compito quando gli istituzionali vengono sul territorio a noi servono perché facciamo vedere le belle persone e la vetrina ma non altre situazioni dove a me capita spesso e volentieri di avere istituzionali sul territorio e allora devo far correre il movimento senza che il movimento sappia che ci sono delle presenze scusate questa vena però si disperde forza si disperde poi il militante che magari come diceva prima Belotti ha piacere che ha la cena di essere seduto di fianco a Salvini piuttosto che di fianco a Grimoldi piuttosto che di fianco a Maroni piuttosto che di fianco a Gravaglia o altri quello è il punto è il riconoscimento ultima cosa siccome a Milano noi in modo particolare avremo le elezioni c'è da ricordarsi una cosa che è stampata che deve essere molto chiara stampata nella testa della gente entrare nelle liste è un premio che il movimento dà a qualcuno non c'è qualcuno che è toccato da Dio che allora entra nelle liste e deve essere eletto per forza il punto è sul merito degli uomini su quello che un uomo dà per il movimento e allora rispetto a questa cosa deve avere anche il premio magari di entrare in lista a fare il consigliere di zona bene quello è l'inizio poi il sindaco il consigliere regionale piuttosto che il parlamentare ma deve basarsi su quello anche perché visto Forza Italia e altre formazioni politiche che ormai si stanno sciogliendo noi abbiamo una corsa all'ingresso leghista che è paradossale io incontro gente che fino a ieri militava nell'NCD che mi dice che era leghista da prima di Umberto Bossi adesso io i protoleghisti non li ho ancora incontrati però e mi dicono ma sai io in fondo sono sempre stato leghista però il tempo è passato siccome l'NCD mi dava il post e voi non me lo davate adesso però lo sento anche mia moglie è leghista penso un po' mio figlio l'ho chiamato Matteo perché la situazione è questa occhio si lavora merito questo è quello che chiedo al segretario al segretario nazionale un occhio sui nostri uomini perché abbiamo gente che è vent'anni nella Lega e magari ha fatto solo banchetti e attaccato i manifesti anche questa cosa è attaccare i manifesti permette di dire lo ricordo al segretario nazionale che vado a verbale siccome sono stato un po' commissario a Mantua ho addestrato 40 ragazzi a attaccare i manifesti perché si è perso un po' capisco che a Milano diventa un po' difficile però il fatto di fare la colla di fare gruppo e usare la scopa fa gruppo e rende più forti i militanti perché se dobbiamo andare a far attaccare i manifesti agli altri voi capite bene che perdiamo un po' le nostre cose grazie a tutti viva la Lega viva la Lega Lombarda viva Paolo Grimoldi viva Matteo Salvini grazie